Questa pillola di latino è dedicata in primo luogo ad una mia classe, cioè la prima e liceo scientifico che saluto. Tuttavia può essere seguito anche da altri studenti che stanno proprio frequentando un primo anno di liceo. In classe non abbiamo avuto tempo di correggere questa versione, assegnata per compito a casa qualche giorno fa, rimediamo per mezzo di questo video di oggi. Si tratta, come avete visto, di una breve favola che ha come protagonisti un asino e un lupo. Vediamo le loro vicende. Il brano inizia con questa brevissima frase, asinus egrotabat. Fin qui direi nessuna difficoltà in particolare, il verbo è all'indicativo imperfetto e possiamo tradurlo in questo modo. Un asino egrotabat. Era malato, stava male. malum asperum erat, et miser in stabulo iacevat. Malum erat asperum. Il male, la malattia di cui soffre questo asino, era pesante, violenta, grave. Et miser in stabulo iacevat. E il poveretto, miser, iacevat. Giaceva, se ne stava coricato, in stabulo, nella stalla. Dunque è la storia di un asino colpito da una malattia che, come vedremo ora, riceverà la visita poco gradita di un lupo. lupus venit, ostium pulsavit, et asini filio sic dixit. Aperi, care aselle, medicamenta abeo, apta patris tui morbo. Vediamo la prima frase. Lupus venit, pulsavit ostium, et dixit sic filio asini. Tre verbi, tre azioni da tradurre bene. Lupus venit, un lupo, o se preferite una favola il lupo, arrivò, pulsavit ostium, bussò alla porta, et dixit sic, e disse così filio asini, al figlio dell'asino. Tre verbi all'indicativo, tutti all'indicativo, perfetto attivo. Arrivò, bussò alla porta, disse così. Ecco il discorso diretto. Aperi, care aselle. Apri, sottinteso la porta, caro asinello. Notate il diminutivo? Non c'è scritto asinus, c'è scritto asellus, qui al vocativo aselle. Asinello, perché è il figlio dell'asino di cui si parlava prima. Aveo medicamenta. Ho, sottinteso con me, delle medicine, medicamenta. Come sono queste medicine? Apta morbo tui patris, adatte alla malattia di chi? Tui patris, genitivo, di tuo padre. Dunque il lupo prova a farsi aprire la porta, fingendosi medico, per così dire, dicendo di avere con sé delle medicine utili a guarire il papà dell'asinello. Asellus, autem, ostium non aperuit, et lupo respondit. Amici verba audio, sed lupum video. L'asinello però non ci casca. Partiamo proprio da quel autem, congiunzione parola con valore avversativo. Però, invece, asellus, soggetto, l'asinello, non aperuit ostium, non aprì la porta, et respondit lupo, e rispose al lupo. Di nuovo due verbi al perfetto indicativo. E qui di nuovo il discorso diretto, la risposta dell'asinello al lupo. Amici verba audio, sed lupum video. Qui c'è una sorta di parallelismo, vedete? La frase è spezzata in due, dice così, mettendo le parole in ordine, audio verba amici. Ascolto, sento, le parole di un amico, sed video lupum, ma vedo un lupo. Come a dire, le tue parole sono molto belle, ma non sono credibili, perché sei un mio nemico, sei un lupo. Malo igitur oculis meis, quam verbis tuis credere. Malo significa preferisco. Malo igitur. Dunque preferisco fare che cosa? Ecco l'infinito. Credere a che cosa? Ad attivo. Oculis meis, ai miei occhi, quam verbis tuis, piuttosto che alle tue parole, che evidentemente non mi traggono in inganno. Preferisco dunque credere ai miei occhi che alle tue parole. L'ultima parte della versione. Siamicus verus es, lupe, medicamenta relinque e trecede. Qui si fa un'ipotesi. Vi ho evidenziato questo sì perché è una congiunzione subordinante. Vuol dire se introduce una frase condizionale. Siamicus verus es, se tu sei un vero amico, o lupo, vocativo, lupe, relinque, medicamenta e trecede. Cioè letteralmente lascia, lascia qui le medicine, sottinteso davanti alla porta, senza entrare, e allontanati, e vattene. Due imperativi. Nam, amici auxilium, grato animo, accipio, sed ferum luporum animum cognosco, et dolum, timeo. Qui ancora tre verbi, accipio, cognosco, timeo, molto semplici. Prima persona singolare, tutte e tre le volte di un indicativo presente attivo. La persona che sta parlando dice io faccio queste tre cose. Nam, infatti, accipio, accolgo, ricevo, grato animo, con animo grato, con animo riconoscente, auxilium amici, l'aiuto di un amico, sed, ma, cognosco animum ferum luporum, ma conosco l'animo, l'indole feroce dei lupi, luporum, et dolum, timeo, e temo un inganno, sottinteso da parte tua che sei un lupo. Dunque, infatti, accolgo con animo grato, riconoscente, l'aiuto di un amico, ma conosco l'animo feroce dei lupi, e temo un inganno, appunto, da parte tua. Dunque, la storia, la favola di un asino, di un asinello e di un lupo, è per fortuna l'intelligenza dell'asinello alla meglio sulla violenza e sulla forbizia del lupo. Grazie a tutti per l'attenzione, se avete qualche dubbio scrivete un commento sotto il video, se vi sono stato utile lasciate un like, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale YouTube e magari date un'occhiata alla playlist pillole di latino. Ci sono ormai più di 100 video dedicati alla grammatica latina. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo video.